Tommaso Paradiso prosegue il Giro d'Italia con il Tommy Summer Tour 2024, la travolgente tourne estiva prodotta e organizzata da vivo concerti che lo vede protagonista dell'estate. Stasera grandissimo concerto alla Villa Bellini di Catania in occasione del Catania Summer Fest di cui radio studio centrale e radio ufficiale. La dimensione live è da sempre quella che Tommaso preferisce. Forte della presenza di 11 elementi sul palco, lo spettacolo valorizza la potenza di ogni singolo strumento che esplode e si fonde con gli altri nella piena celebrazione della bellezza di essere accompagnati da una band composta da musicisti che sono una solida presenza accanto a Tommaso ormai da diversi anni. Tommaso Paradiso è uno degli autori che meglio raccontano i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l'essenza. La sua capacità di coinvolgere e sorprendere ed emozionare dal vivo è genuina e contagiosa. L'appuntamento è per stasera alle 21.30 e con questo è tutto l'informazione di RSC News torna alle 18.